Buonasera da Meteo.it. In questa ricostruzione si vede la massa di aria gelida in arrivo dalla Russia che tra domani e mercoledì prenderà possesso di tutta l'Italia facendoci vivere un clima tipicamente invernale. Per quanto riguarda il tempo, ecco che domani avremo ancora delle piogge con qualche fiocco di neve in mattinata fin sulle coste sul versante adriatico. Avremo piogge in Sicilia, qualche fiocco di neve anche sulle Alpi occidentali, prevalenza di sole sul resto dell'Italia. Attenzione perché si farà sentire ancora un vento freddo molto intenso, saranno venti nord orientali con il rischio di mareggiate lungo le coste più esposte.